Ecco un'altra quota rosa di questo splendido spettacolo, Simone Re, intanto benvenuta al Politeatro. Grazie mille per l'accoglienza. Allora, io ti stavo sentendo nelle prove, hai una voce che spacca, ma soprattutto sei un personaggio che con molta nonchalance passa da un'orchestra casa dei a un inferno rock. Ora tu mi devi dire come fai. Non te lo so dire, penso che la musica sia un linguaggio universale, quindi come ciascuno di noi può essere in milioni di cose, attraverso la musica noi riusciamo a dimostrare chi siamo. E quindi possiamo cantare Ciao Mare, possiamo essere credibili a lavorare rock o cantare disco, perché no? La versione di Ciao Mare in versione metal, tu l'hai mai provata? L'hai mai sognata oppure no? No, sarebbe un incubo, quindi è meglio no, no, no. Ascolta Simona, tu sei giovanissima, che ricordo hai di Alessandro Bono? Beh, giovanissima non tanto, perché era una bambina, era una ragazzina, quindi io mi ricordo di questo cantante biondo con questo sguardo totalmente fuori dal comune, aveva questa malinconia, questo mondo interiore. Mi ricordo che io rimasi molto colpita, si guardava Sanremo, io già amavo cantare, quando andò con Oppure No, trovai potentissimo quel brano, e ora che sono una donna matura, me lo sono scritto in più mura di casa, poi ora imbiancato, però è un messaggio che è sempre stato forte nella mia vita, cioè la frase che dice e ogni giorno che va via è un quadro che appendo, mi piace vivere, cioè potentissimo. Quindi ho questo ricordo di una mia bambina che guardava Sanremo e mi ricordo che in quella edizione di Sanremo Pippo Baudo lo sgridò perché aveva il chewing gum e io pensai che bacchettone, quindi questo è uno dei ricordi. Pippo Baudo sgridò anche, credo, giovanotti per il giubbotto di jeans, per i grandi, per il look. Era un'Italia, insomma, e sono passati 30 anni tra l'altro, neanche. Sì. Ascolta, tu cosa farai stasera sul palco del Politeatro? Interpreterò due brani che per me sono una novità, una novità in che senso? Io ho partecipato dalle prime edizioni di questo tributo, la canzone a me più vicina era Io e te, questa sera invece farò Di Solo Amore e Nel Lago, sono due brani bellissimi, molto diversi tra loro, hanno un'ironia potente e un rock blues di solo amore e Nel Lago che è un brano molto intimo, quindi vediamo, insomma, cosa succederà. Tu comunque con i cantautori graffianti ci vai un po' a nozze perché, insomma, nel tuo mondo anche di cover c'è anche una me ne frego di Achille Lauro. Sì, sì, ma lì sono giochi, sono giochi che si fanno, spesso facciamo l'errore di giudicare o di avere un pregiudizio verso gli artisti e mi ricordo che quando Achille Lauro andò a Sanremo tutti dicevano non sa cantare, il brano fa schifo, e invece il giorno dopo mi sono messa la tastiera cercando di pulirlo, di mantenere il messaggio e l'ho voluta cantare, ecco. Hai fatto una versione tua? Sì, però era la sua canzone con le note della sua melodia, solo che spesso crediamo più credibile una ragazza un po' più intonata di Achille Lauro e ci perdiamo il messaggio e per me quello è un brano che rimane potente. Come sono potenti tutte le canzoni dell'artista che questa sera festeggeremo perché sarà una festa, Alessandro Bono, io ringrazio Simona per questa chiacchierata, grazie Simona. Grazie a voi, per me è sempre un onore. Poi diciamo che stasera ci sarà Luisa, la mamma di Alessandro, quindi per noi è una responsabilità, è un onore, un piacere, ma è una grandissima emozione. Grande Luisa, grande donna, grande guerriera. Sì, grazie ancora. Ciao.